Ti sei sentito più a tuo agio in questo ruolo brillante che hai in Oggi Sposi o in quello che hai in Romanzo Criminale? Ma guarda, sono tutti e due, sono diversi, divertente quello. Vorresti continuare a fare film brillanti o cambiare il genere oppure tornare a interpretare? No, ti ripeto, mi interessano i progetti, poi vediamo. Io sono per cambiare sempre perché è divertente, è molto divertente, diverto io. Poi penso che se si diverta l'interprese si diverta anche il pubblico. Porteresti un tuo spettacolo al cinema? Beh sì, ce ne sono tanti, io non ho mai fatto un spettacolo che ho scritto io. Sì, sì, però che hai interpretato. Sì, sì, è tantissimo. Lo porteresti? Sì, ma l'hanno pure fatti come film. Ti piacerebbe lavorare nel futuro? Sei un attore in particolare con cui vorresti lavorare? Sì, io vorrei lavorare con Roberto Elisca e Pierfrancesco Favino. Che ha fatto il libanese? Sì, tra l'altro. Sappiamo che in questa serie di Romanzo Criminale ci sarebbe qualche flashback. Sì, perché io sono morto, giustamente faccio il fantasmino, ricordo il poro libanese qui. Blog di MyStyle, tanti saluti, tanti auguri e ciao. Grazie. 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 Grazie.